Andiamo a vedere un po' generalmente cosa succede con un operatore di borsa che non considera i prezzi di mercato. Allora noi abbiamo un trend a rialzo. Cosa succede durante un trend a rialzo? Un trend a rialzo succede questo. Diciamo che il nostro operatore fittizio inizia a vedere i prezzi che arrivano a 10, poi scendono a 8. Che cos'è 8 rispetto a 10? Un minimo quindi è da comprare perché sta scendendo e quindi compriamo 8, qua è 8. Poi i prezzi vanno a 12, lui è tutto contento perché ha comprato 8 e vende a 12, poi da 12 i prezzi tornano a 10. Che cos'è 10 rispetto a 12? Un minimo, quindi i minimi bisogna comprarli. Quindi siccome i prezzi di 10 sono inferiori a 12, lui compra 10 e i prezzi vanno a 16. Da 16 i prezzi raggiungono 14. Lui è contento perché ha comprato 8, gli è andato bene, ha comprato 10, gli ha comprato bene e adesso i prezzi sono a 14, lui compra e i prezzi vanno a 24, quindi tutto contento. Da 24 i prezzi tornano a 22, cos'è 22 rispetto a 24? Un minimo e lui compra al minimo e quindi i prezzi arrivano addirittura a 35, che bellezza sono arrivati a 35. Da 35 i prezzi tornano a 30, che cos'è 30 rispetto a 35? Un minimo e quindi lui compra. Poi i prezzi vanno a 33, succede una cosa che prima non è mai successa in questa situazione, se voi vedete qua succede una cosa che prima non è mai successa, una cosa nuova, che il nostro impotentico investitore però non sa valutare, perché non ha seguito il corso di finanza aziendale. Quindi lui arriva a 33 e poi i prezzi arrivano a 28. Che cos'è 28 rispetto a 33? Un minimo, quindi lui deve comprare. Quindi lui compra a 28, poi i prezzi tornano a 30, ma che cos'è 30 rispetto a... i prezzi vanno a finire a 22. Cos'è 22 rispetto a 30? Un minimo, quindi lui compra a 22 e poi compra a 18, poi a 15 e poi al fine ha finito i soldi e si è rovinato, perché ovviamente sta accumulando le perdite, sta restituendo soldi al mercato. Perché? Perché in questa situazione è successo una cosa che prima non era successa. Allora, se voi notate, noi qui abbiamo due massimi crescenti, due minimi crescenti. Quando voi notate due massimi crescenti in un grafico e due minimi crescenti, vuol dire che la tendenza è cambiata, vuol dire che siamo in presenza di una tendenza rialzista. Tendenza rialzista che si ribalta quando? Quando noi abbiamo due massimi, due minimi decrescenti. Noi in questa situazione, per la prima volta abbiamo una situazione che prima non si era mai verificata e abbiamo due massimi decrescenti e due minimi decrescenti. In questa situazione noi abbiamo un cambiamento di tendenza. Di solito quando si trovano due massimi e due minimi inclinati nella direzione apposta alla tendenza, si dice che la tendenza è finita. E viceversa, quando noi abbiamo due massimi e due minimi allineati, indicano che la tendenza è cambiata. Quindi la tendenza, quando si dice che un mercato è in tendenza, se noi siamo in una tendenza rialzista o una tendenza ribassista, è una cosa indicata da due massimi e due minimi allineati a rialzo, in caso di tendenza a rialzo, o allineati a ribasso in caso di tendenza a ribasso, cioè due massimi declinanti e due minimi declinanti. In realtà questo vale per il 30% del mercato, cioè i mercati sono una tendenza definita nel 30% dei casi. Nel 70% dei casi sono in congestione. Cosa significa congestione? Significa che hanno un movimento orizzontale. Il movimento orizzontale dei mercati è testimoniato da massimi e minimi allineati. Cosa significa? Significa che una congestione è data da due massimi, da due V o dritte o rovesciate, come volete voi, allineate. Per cui voi vedete che voi avete in questa situazione un minimo e un minimo, un massimo, di solito un massimo qua, un minimo e un minimo, un massimo e un massimo. Quindi quando voi avete due massimi allineati e due minimi allineati, voi siete in una situazione di congestione almeno due massimi e due minimi allineati. Perché ovviamente questa situazione può perdurare, nel senso che possiamo avere due, quattro, sei, otto, dieci massimi allineati. Allora andiamo a vedere un esempio tratto dal mercato. Allora io adesso carico una piattaforma, ce ne sono tantissime in circolazione. Allora andiamo a prendere il Nasdaq, che è una cosa che tutti noi, anche voi penso seguirete, visto che siete in Information Technology. Andiamo a prendere il Nasdaq. Allora andiamo a vedere che cosa è successo recentemente. Allora recentemente noi abbiamo visto, adesso ve la faccio in modo di segnarsi in cima, io per ragioni professionali uso paint come una mitragliatrice, quindi preferisco fare tutto in paint. Allora voi vedete che noi abbiamo, in questa situazione qua, abbiamo, una piccola congestione. Vedete quindi il grafico? Allora, ovviamente, voi vedete qua dove ho disegnato le due V rovesciate nere, voi vedete che abbiamo le due V rovesciate, questa è una congestione, poi la congestione si espande per diventare un po' più grossa, ok? Vedete che sono tre V rovesciate? Poi a un certo punto che cosa succede? I prezzi? I prezzi rompono la resistenza della congestione, rompono i massimi. Vedete che rompono i massimi? Tra l'altro qua c'è un altro massimo, quindi rompono due massimi allineati e che cosa succede? Succede che i prezzi volano, ok? Ovviamente vedete che qui abbiamo avuto le due classiche gambe che abbiamo viste prima, no? Ricordate quando abbiamo visto le gambe a rialzo di un mercato, ho fatto il rialzo, ho fatto così? Vedete che ci sono le gambe? Poi a un certo punto noi abbiamo il crollo dei prezzi del coronavirus, guardate cosa succede quando abbiamo avuto l'ultimo minimo. Guardate, questo è un minimo, diciamo che questo è un supporto, porta via il minimo, guardate che cosa è successo, abbiamo avuto il botto. Qui sotto, se voi andate a vedere con più calma, avevamo avuto un doppio minimo, ho fatto così. Poi di nuovo noi qui abbiamo un minimo e tornano su. Andate a vedere qua che cosa sono questi due, sono due massimi, due minimi, questi cosa sono? Due massimi crescenti. Che cosa ha scritto Tomasini sul suo giornale? Che i prezzi sarebbero andati in rialzo, perché? Perché qua ha avuto un segnale rialzista. Guardate che cosa hanno fatto dopo il mercato, vedete? Come funziona il mercato? Questo è un falso breakout, ovviamente la regola non è che funziona sempre. Però diciamo questo minimo è superiore a questo, è superiore a questo, è superiore a questo, questo minimo 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 ha chiuso una volta solo al di sotto di questo, poi è tornato subito su, questo è superiore a questo minimo e poi abbiamo avuto questo ritracciamento, ma questo minimo è superiore a questo minimo, questo minimo l'ha solo lambito, non l'ha rotto con decisione ed è tornato subito su, questo minimo è superiore a questo, questo minimo è superiore a questo. Allora se voi mi chiedete adesso, sono rialzista o sono negativo sul Nasdaq? Sono rialzista, perché sono rialzista? Perché io ho una serie di minimi tutti crescenti. Andiamo a fare una valutazione di tipo tecnico, no? Allora, se noi non sappiamo niente, sappiamo solo quello che avevo detto io, andiamo a considerare il movimento che sta facendo adesso. Mi ha fatto una V, mi ha fatto una V, mi ha fatto una V, mi ha fatto una V. Quindi io ho tutto sommato tre V che sono allineate sopra e qui ho tre V che sono allineate sotto. Ecco, questo è un movimento orizzontale con massimi decrescenti, minimi decrescenti, che è un parente povero dei nostri due massimi allineati. Ok? Quindi sostanzialmente che cosa significa? Significa che io ho una situazione di congestione, cioè di indecisione, data dalle elezioni presidenziali. Se io avrò una rottura al rialzo di questi massimi, inizierò a suonare le trombe del rialzo. Quindi se la borsa si posizionerà in quest'area, sarò rialzista. Se la borsa si posizionerà in quest'area, io sarò ribassista. Perché qua ho un massimo molto importante, un minimo importante, un minimo molto importante, e qua ho un massimo allineato ad altri due massimi molto importanti. Anche questo è un minimo molto importante. Quindi qui sotto la borsa scelta, scusate, e presumibilmente mi arriva a toccare questo minimo. Qua la borsa sale e molto probabilmente crescerà, boh, di un'altra gamba come questa, proiettata da questo punto. Ci siamo che qua io avevo un minimo, due minimi decrescenti e due massimi decrescenti, e qua avevo due minimi crescenti e due massimi crescenti. Ovviamente possono esistere delle situazioni in cui ci sono delle congestioni che sono vecchie di secoli. Ok, allora per esempio andate a vedere questa qua, questa qua, i movimenti democratici si diceva che avrebbero approvato la cannabis negli Stati Uniti, questa è un'azienda che produce cannabis. Vedete che qui ha un movimento orizzontale, appena lo romperà, spaccherà tutto. Vi faccio vedere per esempio altre azioni, questa volta europee, che hanno un bellissimo movimento laterale sull'Euronex. Andiamo a vedere, ecco, guardate questo movimento laterale, orizzontale che ha. Questa un'azione che è scesa, poi praticamente ha fatto questo lunghissimo movimento orizzontale di massimi e minimi allineati, poi ha fatto il primo gradino a rialzo, di nuovo facendolo in movimento orizzontale, però diciamo, tecnicamente, qui sopra è a rialzo, ma è difficile secondo me che toglierà il minimo. Allora Eni ha fatto ovviamente un movimento forte e ribasso, dovuto diciamo al fatto che ormai ha fatto il suo tempo, nel senso che ormai le macchine andranno all'elettricità e quindi è finita, e diciamo che ha fatto un colossale doppio minimo che è arrivata qua, qua, vedete qua è andato in orizzontale, poi ha toccato di nuovo questo minimo, l'ha lambito, ed è rimbalzato. questo, 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 questo è un doppio minimo, però è un pattern, questo che viene validato al superamento di questo massimo, come ci siamo detti, no? E ci siamo ancora lontani, quindi per il momento non è carne ed è pesce, possibile movimento potrebbe essere questo, come così potrebbe rimanere all'interno di questa congestione per i prossimi dieci anni. Cioè noi lo sappiamo quando fa un massimo superiore a questi due massimi, che arriva.